Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Stavolta, prima dell'inizio della seduta del Consiglio regionale, il presidente Giovanni Di Pancrazio ha piazzato due vigilantes a presidio dei banchi del governo, in attesa della seduta che dovrà approvare la legge di stabilità e il bilancio di previsione, per evitare un'eventuale nuova occupazione dei banchi dell'Aggiunta, come quella scenata ieri dai consiglieri pentastellati, che ha provocato la stizzita reazione del governatore che ha strattonato la consigliera Sara Marcozzi per sfilargli la sedia. Un pericolo oggi insussistente, visto che l'M5S diserterà i lavori. Il centro-destra ieri invece depositato un plico da 1700 emendamenti, ma come accaduto ieri per il documento di programmazione economica e finanziaria, approvato in serata, scatterà la legge Tagliola che li ridurrà 5 per ciascun consigliere. Le divergenze restano ma il clima è quello della ricerca di un accordo. Sono numeri di responsabilità perché per la prima volta noi scriviamo il disavanzo come purtroppo va iscritto con la nuova normativa e ci carichiamo di ammortizzarlo regalando un futuro agli abruzzesi non di debiti ma di sanamento e allo stesso tempo abbiamo garantito prevalentemente le spese sui trasporti e sul sociale e per la prima volta con l'aggiunta, perché lo scorso anno fu apportato col Consiglio anche delle risorse su agricoltura e cultura. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono quelli che vogliamo che la maggioranza prendano in esame e magari in alcuni casi anche accettare. Su questo c'è la nostra massima disponibilità. Comunque un po' di numeri li vogliamo vedere. Ad inizio seduta Di Pangrazio ha ribadito anche la censura adottata dall'ufficio di presidenza nei confronti del gruppo dei Cinque Stelle. Camillo D'Alessandro del PD ha reso invece noto di aver ricevuto centinaia di offese sul suo profilo Facebook e anche tramite sms a seguito di un video postato dai grillini in cui il consigliere Dem cerca di non farsi riprendere da un grillino che lo firma con un telefonino. Oltre alla violenza delle offese per i quali chiaramente ci saranno giudici che decideranno se quelle sono offese punibili o meno, si è andato oltre perché si è voluto intaccare la sfera personale ma soprattutto intimidire l'attività di un eletto dal popolo con delle minacce che sono arrivate anche per messaggio, quindi private, di gente che mi vuole fare sapere che da oggi mi devo stare attento. Il consigliere M5S Riccardo Mercante che segue i lavori da spettatore lo invita a denunciare pure e rigetta al mittente le accuse. Se il consigliere ha ricevuto le minacce esistono le vie legali può procedere per diffamazione quando chi l'ha minacciato. Però la notizia è che noi ieri abbiamo messo in atto una protesta pacifica per dimostrare contro il bilancio assolutamente al buio, quindi privo di qualsiasi... non c'è stato mostrato e c'è stata un'aggressione indiretta all'interno del consiglio da parte del presidente verso la nostra collega.